ciao a tutti ragazzi rieccoci qui per un altro video di approfondimento strategico per quanto riguarda l'asta del fantacaio come vi ho già accennato nel video di oggi delle 13 30 con questo video cerchiamo un po ai grandi linee di riassumere tutto quello che ci siamo detti in questo mese e mezzo per quanto riguarda l'asta del fantacalcio ovviamente è un video un po così generico per chi non ha avuto il tempo per chi non avrà il tempo di vedersi tutti quasi ormai 85 video che ho fatto quest'estate quindi così l'ho intitolato come avete visto i 10 comandamenti dell'asta del fantacalcio ovviamente ragazzi poi ognuno di questi aspetti io vi consiglio di andarlo ad approfondire e oltre a queste 10 cose ce ne sono tante altre che se mi avete seguito quest'estate sicuramente vi ricorderete detto questo se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like e se vi va attivate anche la campanella in questo modo sarete sempre aggiornati su tutto quello che succede qui su questo canale che sia un video che sia una live e vi ricordo che nei prossimi giorni una volta che il mercato sarà definitivamente chiuso usciranno i nuovi video dedicati alle fasce ogni giorno vi farò uscire un ruolo i portieri per ora restano uguali quindi non penso che vi farò uscire di nuovo i difensori i centrocampisti e gli attaccanti è ovvio ragazzi che se avete l'esigenza la fretta e l'urgenza di avere questo file già pronto il primo settembre ragazzi non dovete far altro che abbonarvi al canale appena vi abbonate al canale 1 euro 99 al mese andate nel post nella community l'ultimo post in alto c'è il link del gruppo telegram entrate lì e vi scaricate la versione aggiornata se non volete abbonarvi basta aspettare due tre giorni e piano piano escono tutti i video aggiornati ok ragazzi grazie mille allora primo comandamento dell'asta del fantacalcio ne abbiamo parlato tanto è il concetto di budget assoluto e budget relativo durante l'asta del fantacalcio è giustissimo che voi o con la calcolatrice con la penna col quaderno col vostro file excel abbiate sempre chiaro quanto budget vi resta aspetto giustissimo ma una cosa che spesso viene sottovalutata è che dovete avere sempre idea di quanto è il vostro budget anche in relazione al budget avversario perché che voi arriviate all'attacco col 48 per cento vuol dire tutto e vuol dire niente se tutti gli altri ci sono arrivati col 60 siete troppo poveri ma se tutti gli altri sono arrivati corti tra il 45 e il 50 per cento il vostro 48 va benissimo quindi ok avere un'idea di quanto abbiamo di budget ma soprattutto dobbiamo avere idea di quanto hanno anche tutti gli altri ok mi raccomando ragazzi secondo comandamento l'importanza degli slot vostri e dei vostri avversari cioè è ovvio che il budget deve essere la cosa fondamentale da guardare durante l'asta ma è molto importante anche guardare quanti slot liberi abbiamo ancora in ogni ruolo ad esempio se in un determinato reparto abbiamo già preso due o tre giocatori dalla dubbia titolarità e non possiamo continuare a comprare giocatori che non sono titolari al cento per cento perché poi sono otto gli slot in difesa rischiamo di avere poi su otto difensori 5 o 6 che giocano non giocano e questo sarebbe un grave errore stessa cosa guardiamo gli slot avversari se ci sono degli avversari che secondo noi hanno problemi di titolarità allora sfruttiamo le esche andiamo a chiamare dei giocatori che sappiamo che non ci lasceranno a uno ma sappiamo che una volta acquistati saranno più problemi che avranno a gestirli che i benefici che otterranno da questi giocatori ok sfruttiamolo soprattutto in attacco dove ci sono solamente sei slot più andiamo ad occupare gli slot avversari con giocatori che a parere nostro non sono così importanti al fantacalcio ma che sicuramente non ci andranno a lasciare a uno due crediti e più offerta di giocatori liberi buona ci sarà per noi quindi mi raccomando ragazzi ragionate sempre anche in base agli slot liberi sia vostri che dei vostri avversari terzo comandamento ragazzi lo abbiamo già detto nel video di oggi delle 13 30 imparate a improvvisare è giustissimo avere delle strategie tra poco nei prossimi comandamenti ne andiamo a parlare ma dovete essere bravi a decidere sul momento ogni asta del fantacalcio è diversa dalle altre ogni asta anche all'interno della stessa lega è diversa da un anno all'altro è difficile che anche all'interno della stessa lega per due tre quattro anni di seguito l'asta sia sempre simile soprattutto quest'anno dove ci sono stati dei grossi shock come la partenza di lucaco la partenza di ronaldo secondo me tante aste avranno un andamento molto imprevedibile e quindi per quanto voi possiate essere preparati vi potete essere preparati uno due o tre piani ecco dovete essere bravi poi a decidere quello giusto una volta che state facendo l'asta e per farlo dovete essere concentrati e attenti e capire quando le cose stanno andando diversamente dal dall'ordinario quarto comandamento lo abbiamo appena detto andare all'asta con un piano a ma avere pronto almeno un piano b se non anche un piano c ne abbiamo parlato tantissimo quest'estate di strategie ve ne ho portate ormai credo una decina tra strategie più normali più estreme eccetera eccetera sceglietene una che a seconda dello storico della vostra lega a seconda del vostro gusto a seconda del vostro listone del vostro regolamento avete scelto ma se poi durante l'asta vi accorgete che fare quella strategia è sostanzialmente controproducente per via dei prezzi per via di altri motivi dovete essere bravi a virare sulla strategia b o sulla strategia c il video con in copertina il dottor strange andatevelo a cercare vi spiega sostanzialmente com'è possibile cambiare da una strategia all'altra strada facendo quinto comandamento se si sbaglia in porta o in difesa era meglio non sbagliare ma non succede nulla un errore in questi due reparti non ha mai compromesso la vittoria di un fantacalcio anche ipotizzando che importa siete rimasti lì col portiere della fiorentina e il portiere del dello spezia non tutto è perduto ok se in difesa volevate gossens volevate teo volevate quadrado volevate dunfriss e siete rimasti con zortea yoshida augello e sabelli non tutto è perduto quindi calma sangue freddo di solito i fantacalci si decidono a centro campo e in attacco soprattutto se fate fantacalci a 6 o 8 giocatori a 10 io e a 12 giocatori o più ovviamente vi posso dire che il ruolo del portiere e il ruolo della difesa se fate il modificatore è fondamentale tra poco ne parliamo però non tutto è perduto quindi capita meglio aver sbagliato in difesa che aver sbagliato magari in attacco ok quindi calma sangue freddo continuate azzerate la mente state tranquilli e da lì in poi però cercate di non sbagliare più sesto comandamento appunto da 10 giocatori in su se c'è il modificatore difesa usatelo ok che non vuol dire andiamo a farci una difesa con teo mancini delict e gossens non vuol dire questo ma sfruttiamolo ma è molto semplice perché vi voglio sfidare a trovare a 10 o più giocatori il quarto centrocampista qualsiasi un quarto centrocampista qualsiasi che possa avere un rendimento migliore di quello che andrete ad ottenere dal modificatore difesa il modificatore difesa sia che facciate quello con le fasce moderne o quello con le fasce classiche vi porta nella peggiore delle ipotesi quasi sempre almeno un punto e se l'avete costruito in un determinato modo vedrete che più volte otterrete anche i tre punti ecco mettiamo anche che solamente sei volte prendete i tre punti e non lo so 15 volte prendete il più uno e basta e vi posso già dire che è poco così vuol dire che sostanzialmente voi avete un giocatore che vi sta facendo 15 assist e 6 gol voi a 10 o più giocatori lo trovate un quarto centrocampista che vi dà tutto questo secondo me no e quindi ragazzi puntiamo sul modificatore come puntarci possibilmente andando a prendere un super top possibilmente un centrale di livello mancini tomori delict eccetera eccetera un ottimo underdog penso a di marco ma ce ne sono tanti noi abbiamo parlato ampiamente quest'estate e un buon regolarista poi andate a completare il reparto con un altro regolarista un altro titolare una scommessina e quello è l'occasione che capita in difesa basta ragazzi non avete speso chissà quanto se avete fatto una difesa del genere avrete speso il 20 22 per cento al massimo vi posso assicurare che alla lunga poi vi fa la differenza quindi mi raccomando ragazzi non trascurate il modificatore e soprattutto il portiere in porta perché è importantissimo quest'anno avere uno dei sei portieri top diciamo settimo comandamento siamo tutti contro tutti ed è giusto in qualche modo quando c'è l'occasione andare a ostacolare gli avversari chiamando l'esca facendo il rilancino un po a volte all'ultimo tutto giusto e ne abbiamo già parlato nei video sui trucchetti psicologici ma non fate la guerra contro tutti perché se vi mettete ad alzare quello alzare quello alzare quello per far spendere tutti beh prima o poi ragazzi qualche pacco sul gruppone vi resta e in più vi fate troppi nemici al tavolo avere troppi nemici al tavolo al fantacalcio è una strategia che non paga mai perché poi vi possono chiamare vi possono rialzare il secondo portiere vi possono magari rilanciare apposta qualche giocatore che avete fatto capire che volevate insomma giusto fare qualche mossa un po di tipo ostruzionistico ma poi calma pensate alla vostra strategia e pensate al vostro percorso gli altri eventualmente sbaglieranno da soli ottavo comandamento secondo me uno dei più importanti che spesso non viene mai rispettato costruite dei reparti con una gerarchia io continuo a vedere soprattutto in attacco un top e ok e poi 4 5 giocatori tutti dello stesso livello ed è ovvio che se fate un attacco del genere per quanto possiate chiedere consiglio per quanto possiate essere preparati sul calcio sul fantacalcio ogni giornata il rischio di lasciare dei bonus in panchina è molto molto alto fate una gerarchia che non vuol dire fate la top 11 e stop vi fate tre slot i primi tre slot in attacco che sono quelli che sostanzialmente volete mettere sempre e eventualmente un quarto slot da poter alternare al vostro terzo slot a seconda delle partite ma il ballottaggio deve essere tra due giocatori non può essere che ogni volta ci sono quattro giocatori in ballottaggio in questo modo diventate pazzi e diventate scemi dietro a questi dubbi cercate di avere almeno due slot in attacco fissi che mettete sempre ovviamente infortuni e squalifiche permettendo e il ballottaggio tra un paio di giocatori ci sta va bene ma non possono esserci in ballottaggio quattro giocatori e il discorso vale anche per il centrocampo ragazzi centrocampo che giochiata tre o che giochiata a quattro è inutile avere sei sette centrocampisti tutti simili cercate di avere tre sicurezze almeno due sicurezze se giocate a tre e poi il ballottaggio anche lì deve essere tra due giocatori quindi mi raccomando ragazzi gerarchia all'interno dei reparti non ho comandamento ragazzi non abbiate fretta di concludere i vostri reparti soprattutto in difesa e a centrocampo beh se fate il fantacalcio a sei o otto non ne parliamo ma anche a dieci ci sono sempre le occasioni dietro l'angolo avete preso le vostre certezze i giocatori che volevate prendere ok a questo punto aspettiamo non ha senso andare a prendere con ansia con fretta il quinto il sesto il settimo l'ottavo slot chiudere e poi magari vedere quel giocatore che noi consideravamo una seconda una terza fascia andare al 2 3 per cento perché perché è andato a finire nella fase discendente dell'andamento su inossidale dell'asta del fantacalcio ovviamente ragazzi se non sapete cos'è l'andamento su inossidale dell'asta del fantacalcio andatevi a vedere il video appunto dove parlo di quello perché secondo me è uno dei video più importanti per quanto riguarda appunto capire qual è il momento ideale per comprare e per non comprare all'asta del fantacalcio quindi ragazzi nessuna fretta nel completare i vostri reparti soprattutto in difesa centro campo dove abbiamo otto slot otto slot sono tanti ragazzi una volta ne abbiamo presi tre quattro che sappiamo che saranno i nostri giocatori chiave possiamo prendere magari il quinto che è magari quel giocatore che lo vediamo già come primo ricambio ma poi aspettiamo aspettiamo non c'è fretta sono tanti giocatori in difesa e soprattutto a centro campo ce n'è davvero l'imbarazzo della scelta quindi aspettiamo aspettiamo e poi andiamo a cogliere le occasioni in attacco il discorso cambia un po perché abbiamo solamente sei slot e quindi lì dobbiamo essere proprio bravi a prendere dopo i primi tre slot i giocatori ideali rapporto qualità prezzo e anche qui mi ripeto per capire quando andare a comprare andamento su in ossidale dell'asta del fantacalcio ultimo comandamento ragazzi non fate coppie difficili da gestire attenzione ragazzi io non vi ho mai detto non fate coppie se vedete anche nel file delle fasce che vi ho portato nei vari video e che potete scaricare se siete abbonati non ci sono delle coppie consigliate chi è romagnoli è una coppia che consiglio toljan muldur è una coppia che consiglio tante coppie hanno un senso ma non fate coppie difficili da gestire ibra giru è una coppia difficile da gestire di bala morata quando c'era ronaldo ma anche adesso è una coppia difficile da gestire politano losano è una coppia difficile da gestire perché mettete uno o mettete l'altro o li mettete entrambi se li mettete entrambi vuol dire che tutto l'anno avrete uno dei due slot occupato da un giocatore che giocherà una parte di partita e non stiamo parlando di muriel che è l'unico giocatore che anche giocando 20 minuti può rendere più di uno che ne ha giocati 90 stiamo parlando di altri giocatori se non li mettete tutti e due va benissimo qua cosa farete sicuramente? metterete quello che le varie formazioni probabili danno per la titolare ok? poi al settantesimo esce il vostro titolare entra l'altro giocatore che avete ma che voi avete tenuto in panchina e fa gol cosa succede? che vi siete bruciati uno slot con il giocatore che non ha fatto nulla e vi siete bruciati un bonus in panca idem ibra giru ragazzi quando strano bene entrambi o pioli gioca con le due punte cosa tutta da verificare e comunque avere due giocatori della stessa squadra per me è un grosso rischio in ogni caso oppure metterete quello che danno per titolare quindi voi metterete ibra magari ibra fa gol ibra esce entra giru e anche giru fa gol voi ne avete messo solo uno quindi non dovrete in quel caso fare la somma dei bonus che vi hanno portato dovrete considerare solamente i bonus che effettivamente siete riusciti a raccogliere e quindi vi sarete bruciati troppi bonus in panchina quindi ragazzi evitate coppie difficili da gestire alcune coppie hanno un senso perché vi permettono di avere sempre un titolare e in caso di infortuni avete la sua riserva ma la gran parte delle coppie o vi costa troppo ok oppure non ne vale la pena non ne vale la pena perché poi vi create dei problemi a gestire la formazione semplificatevi la vita il fantacalcio e soprattutto il momento della formazione è già un momento molto complicato perché dobbiamo andarci a complicare la vita e vale anche per i portieri perché dobbiamo stare lì ogni giornata a decidere tra tre portieri titolari ma prendetevi un top uno dei sei top lo mettete sempre e al massimo vi prendete un terzo portiere di una medio piccola fine vi siete già tolti un problema quanto avrete speso di più tre, quattro punti percentuale amen avete un portiere sapete che è quello semplificatevi la vita ragazzi questi erano così dieci comandamenti ho cercato di riassumere il più possibile ma chi mi ha seguito nelle live e nei video di quest'estate sa che comunque abbiamo detto molto molto altro però volevo cercare così per chi ha l'asta in questi giorni magari non ha il tempo ha scoperto da poco questo canale cercare di fare un video il più possibile conciso grazie mille ragazzi io vi saluto vi ringrazio mi raccomando iscrivetevi al canale e come sempre ci vediamo in live o ci vediamo al prossimo video grazie a tutti ciao e alla prossima ciao